Buongiorno a tutti, grazie a Enzo e a Khalil per il graditissimo invito e ritrovo con piacere tra i moderatori tanti cari amici. Allora, mi è stato chiesto da Enzo un overview sulla sindrome di Brugada, quindi ho preparato qualcosa di da scalico, sperando di chiarire qualche idea o forse di farci sorgere qualche dubbio riguardo a questa sindrome che ormai è nota dal 1992 ma su cui ancora molto rimane da sapere. La definizione è una patologia genetica, lo sappiamo tutti, rara, forse non così rara, a giudicare dai tracciati che giornalmente incontriamo in maniera occasionale sostanzialmente. È caratterizzata dal pattern che tutti voi conoscete e soprattutto dal rischio di fibrillazione ventricolare e morte cardiaca improvvisa in cuori apparentemente strutturalmente sani. Dico apparentemente perché con l'affinamento delle tecniche diagnostiche siamo in grado adesso di vedere che in realtà a livello della parete anteriore, del tratto del flusso del ventricolo destro, qualcosa c'è e c'è collagene, c'è fibrosi che sono espressione di una patologia quantomeno a livello molecolare, quindi cuori sani ma non troppo. Il nome sindrome di Brugada raggruppa tutta una serie di patologie che nel mondo, nel tempo, sono state chiamate con nomi diversi. Ci vedete nei vari paesi dove peraltro questa patologia è a larga prevalenza. Comunque il minimo comune denominatore è che si tratta di morti improvvise soprattutto in giovani uomini, morti improvvise soprattutto notturne. Prima descrizione, dicevo, nel 1992, anche se in realtà altri case report erano precedenti, e attorno a questa sindrome si è studiato tantissimo, c'è un grosso, grossissimo interesse, come si vede anche dall'evoluzione, dal succedersi di documenti di consenso, il primo uscito nel 2002, poi aggiornatosi nel 2005, perfezionatosi nel 2013, per finire con l'ultima consensus, con l'emanazione dei criteri di Shanghai del 2016. Ma ancora rimane tanto da capire. Il pattern tipico lo conosciamo bene. Tipo 1, diagnostico, un soprassiglamento del tratto ST, che per essere diagnostico deve superare i 2 mm al punto J, è una discesa lenta a tenda con un'inversione dell'onda T che scende sotto risa elettrica, una T simmetrica. Questo è il pattern diagnostico. Pattern tipo 2 e tipo 3, atteggiamento a sella, con soprassiglamento superiore ai 2 mm nel tipo 2, inferiore al millimetro nel tipo 3. Questi pattern, per essere diagnosticati come sindrome di Brugada, hanno bisogno di una sdratentizzazione con test farmacologico. Questa sindrome rientra nelle cosiddette J-Wave syndrome, ossia nello spiazzamento dell'onda J all'ECG. Da ricordare, ed è molto importante ricordarlo, le frequenti variazioni dell'ECG. Questo è un pattern ECG dinamico, in cui possiamo trovare un ECG normale un giorno e dopo poche ore trovare un ECG francamente patologico. Da qui l'importanza anche dell'oltre 12 derivazioni, spesso nella diagnostica e nella stratificazione del rischio. Nell'affinamento della diagnosi sono stati proposti diversi criteri elettrocardiografici per distinguere un pattern non diagnostico, quindi di tipo 2 o di tipo 3, da altre problematiche, quali possono essere per esempio la displasia ritmogena del ventricolo destro, un pectus excavatum. Tra i più noti, non semplicissimi da calcolare, c'è l'angolo beta di Chevalier e la misurazione della base del triangolo che si forma tirando due bisettrici dal picco dell'onda R' sulle derivazioni precordiali destre. Dicevo, l'angolo beta è un po' complicato da calcolare, probabilmente l'approccio più semplice è questo di qua, in cui praticamente viene misurata la base del triangolo 5 mm sotto l'apice dell'onda R' una base superiore ai 4 mm è fortemente indicativa di sindrome di Brugada. Andiamo alle consensus e alla diagnosi. Nel 2015 per fare diagnosi di Brugada bastava un ECG che mostrasse o un pattern tipo 1 già diagnostico in una o più derivazioni precordiali destre, sia in posizione standard che in posizione alta, secondo terzo spazio intercostale, che occorresse o spontaneamente o dopo un test provocativo con bloccanti del sodio. In realtà l'anno successivo gli estensori di questo consensus di Shanghai hanno posto qualche dubbio su questa diagnosi così larga e così massiva per un rischio effettivo di overdiagnosi. Praticamente bastava fare un test alla flechinide a un paziente senza sintomi per etichettarlo come portatore di sindrome di Brugada. Anche a me onestamente sembra un po' troppo, ma penso che sia opinione comune. Per cui loro propongono alla diagnosi elettrocardiografica l'associazione di uno dei seguenti criteri. E quindi una FV documentata, una TV polimorfica, sincope da probabile causa ritmica, questo è molto importante, lo vedremo in seguito, una familiarità per morte cardiaca improvvisa in pazienti con età inferiore ai 45 anni o quando possibile una autopsia negativa per altre patologie oppure la presenza di un pattern ECG di Brugada in membri della famiglia o respirazione agonica notturna. L'inducibilità allo studio elettrofisiologico può essere di supporto in circostanze selezionate. Quindi per diagnosticare ECG diagnostico più uno di questi criteri. Qual è il peso e il burden della malattia? Dicevo che non è così rara. La prevalenza varia a seconda delle zone endemiche o meno da 1 a 5.000 a 1 a 2.000 con una prevalenza mondiale dello 0,05%. È un'incidenza che varia dallo 0,12 allo 0,8%. La malattia ha un impatto importante perché è responsabile dal 4 al 12% di tutte le morti improvvise e del ben 20% dei pazienti che muoiono improvvisamente che hanno un cuore strutturalmente sano. Ed è una patologia strana, atipica se la paragoniamo alle cardiopatie ereditarie tipo il cuttilungo. Intanto tipo il cuttilungo ha la displasia ritmologica del ventricolo destro perché non induce cardiomiopatia quantomeno evidente. Porta a morte improvvisa molti pazienti e quello che è importante è che 4 pazienti su 5 muoiono o hanno i primi sintomi che esordiscono come morte improvvisa. E inoltre non è semplice da trattare perché non c'è un farmaco come nel betablocco nella sindrome del cuttilungo in cui si riesca ad intervenire a ridurre gli eventi. Quindi è veramente difficile da affrontare da approcciare e da trattare. Il pattern di trasmissione genetico è autosomico dominante ma la penetranza è incompleta e l'espressività è variabile e questo rende conto anche della difficoltà di appurare la reale incidenza di questa patologia. È geneticamente eterogeneo e il gene implicato e quello su cui si ha in realtà l'unica certezza è la mutazione del gene SCN5A che codifica per la subunità alfa dei canali del sodio localizzata nel tratto anteriore del tratto del flusso del ventricolo destro. Altri geni sono implicati ma incidono in piccola quantità 2-5% dei casi ma vedete cosa è importante che nel 70% delle famiglie non esiste diagnosi genetica rimangono praticamente inspiegabili le mutazioni genetiche probabilmente perché non conosciamo ancora molti geni implicati e quindi questo comporta che la diagnosi genetica non ha alcun impatto sia nella prognosi che nel trattamento. La facciamo spesso per aiutare ovviamente l'evoluzione scientifica ma ad oggi non ci guida né nella prognosi né nel trattamento di questi pazienti. Tutti i geni ad oggi implicati sono 18 la maggior parte di essi causano una loss of function dei canali del sodio altri una perdita di funzione dei canali del calcio. Cosa succede? Si viene a creare un difetto nella ripolarizzazione è un mismatch tra ripolarizzazione endocardica ed epicardica. Praticamente vedete questa è la fase normale della ripolarizzazione a livello dell'epicardio c'è una ripresa di funzione nella fase 1 del potenziale d'azione in questo punto e si crea questo notch questo è un potenziale d'azione normale durante il corso dei sindrome di brugata la perdita di funzione dei canali del sodio porta a una discesa rapida del potenziale d'azione in epicardio ma non in endocardio. Questo mismatch crea un gradiente di voltaggio e crea i presupposti per un rientro in fase 2 e per l'innesco di tachicardie ventricolari polimorfe e di fibrillazione ventricolare. Ai difetti genetici già noti si associano poi altri geni che diventano modulatori e che quindi possono aumentare il rischio aritmico. Quindi il concetto è che i risultati della genetica ribadisco non influenzano ad oggi la prognosi e il trattamento. Differenze riguardo età e sesso sappiamo tutti che la morte improvvisa è più incidente negli uomini 8 volte o 10 volte più negli uomini che nelle donne. questo è possibilmente legato a una differenza nelle correnti di trasmembrane e c'è sicuramente un'influenza ormonale perché si è visto che questa differenza di correnti ioniche è legata a un'alta concentrazione di testosterone. Questo spiegherebbe anche perché i ragazzi con età inferiore ai 16 anni vanno incontro meno a eventi aritmici cliniche lo sappiamo tutti sincope svenimenti o respiragonico notturno sono i sintomi principali l'incidenza non è bassa di morte cardiaca improvvisa come anche la ricorrenza di aritmia in pazienti che hanno già avuto morte cardiaca improvvisa è del 5% anno i sintomi si manifestano soprattutto nella quinta decade di vita e si manifestano soprattutto in corso di predominanza vagale di ipertono vagale quindi durante il riposo durante la notte la febbre ha un grosso ruolo perché viene peggiora ancora di più la funzione dei canali del sodio ed è associata ed è un importante trigger soprattutto in età pediatrica la diagnosi viene fatta appunto con i bloccanti del sodio aimalina flecainide un po' meno con questi altri due con la procainamide con la psicanide o in alternativa c'è questo questo test che potrebbe essere gradevole quindi il full stomach test cioè la valutazione dell'ST dura dopo l'ibagione abbondante per cui vengono registrati dei tracciati seriati o un oltre a 12 derivazioni per vedere se ci sono modificazioni dell'ST durante appunto l'ibagione abbondante che è una cosa che i portatori di brugata dovrebbero evitare perché si è visto essere fattore di rischio importante cosa propongono gli estensori della consensus di Shanghai propongono un sistema diagnostico a punteggio in cui viene assegnato un punteggio a una caratteristica ECG un punteggio alla storia clinica alla storia familiare e un punteggio in verità molto molto basso ai risultati genetici un punteggio superiore ai 3,5 rende molto probabile o definitiva la diagnosi di sindrome di brugata bisogna però escludere le cosiddette fenocopie cioè tutte le altre cause che possono causare un sovrasidiellamento del tratto ST che sono in questa tabella io non ve le leggo tutte ma si va dal blocco di blanca destra tipico all'ipertrofia ventricolare all'ischemia ce ne sono una grossa quantità cos'è che ci deve indirizzare a escludere a confermare una fenocopia nella fenocopia ovviamente c'è la presenza di un fattore identificabile la scomparsa del pattern quando questo fattore viene rimosso l'assenza di storia familiare di morte cardiaca improvvisa o l'assenza di un pattern in tutti i parenti di primo grado l'assenza di sintomi e ovviamente la negatività del test escludere le fenocopie allora ci possiamo orientare verso la sindrome di brugata e passiamo al reale problema di questa sindrome la stratificazione prognostica chi dobbiamo impiantare chi dobbiamo trattare chi dobbiamo seguire con solo follow up questo è il vero problema perché questo è un articolo pubblicato proprio ad ottobre su AdRhythm è il più grosso registro su pazienti portatori di sindrome di brugata e vediamo che un 25% di pazienti che vengono impiantati con defibrillatore riceve shock ma viene impiantato in maniera inappropriata allora quali sono i pazienti a rischio che vanno a impianto di defibrillatore sicuramente sono i pazienti che hanno avuto un arresto cardiaco e i pazienti con sincope aritmica la sincope vasovagale dimostrata in maniera certa non aumenta il rischio di morte improvvisa quindi bisogna assolutamente distinguere e orientarsi anamnesticamente ovvero possibile tra sincope vasovagale e sincope francamente aritmica e questi sono le percentuali di rischio di FV ricorrente dopo un primo evento sono altissime 35% a 4 anni 44% a 7 anni quasi il 50% dei pazienti va incontro a un nuovo evento a 10 anni per fortuna questi pazienti sono solo una minoranza il 6% in Europa ma quando identificati vanno impiantati perché ovviamente ad alto rischio come vedete anche il Finger che è un altro grosso registro tra Francia, Italia Olanda e Germania identifica questi pazienti come quelli a più alto rischio gli asintomatici quelli a minor rischio questi pazienti secondo linee guida vanno a impianto del defibrillatore perché nonostante tutto nonostante le complicanze legate all'impianto di un defibrillatore che arrivano ad essere del 45% durante tutta la vita considerate che questi pazienti impiantano ai 40 anni comunque vale la pena impiantarli il problema nasce qui sugli asintomatici che non sono pochi sono il 63% di tutti i diagnosticati e tra questi asintomatici abbiamo pazienti con un ECG spontaneo di base pazienti a cui dobbiamo indurre il pattern diagnostico e pazienti in cui il pattern diagnostico non ce l'hanno di base ma ce l'hanno durante febbre qui non abbiamo navighiamo un po' in alto mare ancora cosa ci dicono gli studi intanto abbiamo acclarato che c'è stato un cosiddetto referral bias nei vari studi se vedete l'incidenza di eventi era del 12% nelle prime serie di Brugada ma questo perché ovviamente riuscivamo a diagnosticare soltanto i casi più eclatanti e i casi più gravi dopodiché abbiamo affinato la diagnosi di sindrome di Brugada abbiamo visto un po' tutte le categorie di rischio e quindi il rischio si è diluito ovviamente vedete qui come è andato ampiamente sotto il 2% questa è la situazione degli asintomatici un rischio di morte per anno quindi sintomatici con tracciato di base tipo 1 diagnostico il rischio per anno di morte improvvisa è dell'1% che considereremmo basso ma in realtà cosa c'è sotto c'è un rischio cumulativo a 10 anni del 10% che diventa importante se poi facessimo il conto della serva cioè il paziente lo diagnostichiamo a 40 anni ha altri 40 anni di aspettativa di vita in realtà arriveremmo a un rischio del 40% long life per fortuna non è così perché dopo i 40 anni il rischio di morte improvvisa sembra ridursi gradualmente non ne conosciamo i motivi ma altrimenti diventerebbe un'epidemia però ci rimane questo 10% in 10 anni che è un rischio significativo come identificare i pazienti a maggior rischio abbiamo alcune certezze e altri dubbi sicuramente le variazioni spontanee del tracciato ci indirizzano verso un pattern a maggior rischio così anche come la frammentazione del QRS genotipo familiarità di morte cardiaca improvvisa e altre variabili dell'elettrocardiogramma rimangono un po' in dubbio e il grosso dubbio rimane sullo studio elettrofisiologico ci sono stati vari ribattiti negli anni varie contese gruppi che assolutamente affermavano la validità come stratificatore del rischio dello studio elettrofisiologico gruppi che la negavano quello che sappiamo è che in tutte le serie l'inducibilità della fibrillazione ventricolare è sicuramente alta nei pazienti con arresto cardiaco intermedia nei pazienti con sincope e più bassa nei pazienti asintomatici però la domanda non deve essere questa la domanda centrale è che informazione prognostica ci dà lo studio elettrofisiologico vale la pena ci aiuta nella decisione clinica per ottimizzare ovviamente le risorse economiche limitate perché sappiamo che probabilmente chi è più a rischio ha un'inducibilità maggiore ma ne vale la pena mettere in piedi una baracca di questo tipo cioè fare lo studio elettrofisiologico quasi a tutti per poi ottenere cosa questo è lo studio prelude uno studio a cui noi del civico abbiamo partecipato come board committee io e il ragazzo di Garzone facevo i SEF e questo è il primo studio non lo dico io è l'unico studio è l'unico trial randomizzato ad oggi che ha validato il SEF ha validato i protocolli di studio elettrofisiologico limitato a uno o due extra stimoli cosa ha dimostrato il prelude che lo studio elettrofisiologico non serve quasi a nulla i pazienti positivi o negativi all'inducibilità facevano FV o non la facevano in maniera assolutamente identica quindi lo studio elettrofisiologico di fatto non è uno stratificatore del rischio ci ha dimostrato però che i pazienti che hanno un basso periodo refrattario quindi inferiore ai 200 millisecondi sono più a rischio e in più lo studio valutava anche altro valutava sia il burden dell'ST sia il QRS frazionato e ha dimostrato che i pazienti con QRS frazionato sono molto più a rischio dei pazienti che il QRS non ce l'hanno frazionato questo studio era di qualche anno fa in realtà dal 2016 con la pubblicazione di questa meta-analisi lo studio elettrofisiologico ha assunto un ruolo un po' più importante si pensa che possa avere un modesto valore prognostico se effettuato in maniera non aggressiva quindi con due extra stimoli in due sedi in apice in tratto del flusso del ventricolo destro e sembrerebbe che uno studio negativo abbia un valore predittivo negativo di un certo rilievo questo vale per gli asintomatici con ECG spontaneo non vale per gli asintomatici con un pattern indotto da farmaco conclusioni dell'elioida comunque lo mettono in classe 2b per cui ciascuno di noi si può sentire assolutamente libero di decidere se lo studio elettrofisiologico è utile oppure no non abbiamo dati scientifici sicuramente non conclusivi sembrerebbe ad oggi che ci aiuti un po' ma non mi baserei su questo per stratificare il rischio di un paziente passiamo ai pazienti asintomatici con pattern indotto da farmaco vedete che il rischio è molto molto basso meno dello 0,5% anno altro discorso invece per il pattern indotto da febbre questi si pongono a livello intermedio si pongono in realtà qua tra il pattern spontaneo e il pattern drag indotto sono pazienti un po' più alto rischio quindi è raccomandabile la registrazione di un ECG durante febbre ove possibile ritornando al prelude ve l'ho accennato poco fa questo studio valutava anche l'importanza di quanto un paziente stia con l'ST sopra slivellato perché se è vero che per esempio facendo un parallelo con la sindrome del QT lungo se è vero che un QT più alto pone il paziente più a rischio sembrerebbe plausibile che un maggior tempo in ST sopra slivellato diagnostico metta il paziente a più alto rischio altre caratteristiche e questo è uno studio anche questo di ottobre pubblicato su Art Rhythm caratteristiche elettrocardiografiche sembrano essere molto importanti e nello specifico appunto il burden di ST o una nuova evidenza di ST persistentemente sopra slivellato oppure l'aumento della larghezza del QRS o di questa misura che l'intervallo che va dal picco dell'onda T fino alla fine dell'onda T o l'aumento di frammentazione nel follow up questi autori hanno seguito in follow up pazienti e hanno visto che se questo si verifica se il QRS si frammenta man mano se questo valore si allunga i pazienti sono pazienti a più alto rischio che probabilmente meritano l'impianto di ACD profilattico e questi sono i tracciati esemplificativi quindi pazienti durante il follow up che hanno avuto FV partiva in questo modo il QRS si è frammentato nel tempo in questo modo anche qui partiva così il paziente con FV si è frammentato in questo modo sono piccole frammentazioni a cui probabilmente non facciamo caso ma che dovremmo imparare a riconoscere guardate qui quanto sono piccolissime le modificazioni ma il paziente in follow up ha fatto FV mentre questo di qua paziente asintomatico mai fatto FV un tracciato sostanzialmente sovrapponibile e quindi per ricapitolare tipo 1 brugato oppure associazione tra pattern di brugato e ripolarizzazione precoce o l'onda R-alte in AVR una S prominente in D1 e la frammentazione del QRS sono tutti indici che stanno prendendo piede nella stratificazione del rischio terapia antiaritmica quasi di nessun valore può essere utilizzata nei pazienti o che rifiutano l'impianto di ACD o che nonostante l'impianto di ACD vanno incontro a aritmie ripetute e che non vogliono fare l'ablazione perché l'ablazione comincia a diventare un'opzione importante i primi casi di ablazione in brugata sono legati al nome di Nadi Madi vennero effettuati su pazienti che erano impiantati con defibrillatore ma che andavano incontro a aritmie ricorrenti e con l'ottenimento di ottimi risultati non veniva più indotta fibrillazione ventricolare dopo follow up di 20 mesi in assenza di terapia cosa era l'obiettivo di questa ablazione andare a bruciare i potenziali tardivi che si manifestano a livello della parete anteriore del tratto del flusso del ventricolo destro che venivano amplificati dalla somministrazione di Aimalina ci fu un errore in questa pubblicazione di Daniva Di perché lui attribuiva questa frammentazione dei potenziali tardivi a livello del ventricolo destro a un ritardo di depolarizzazione come se fosse quasi una tachicardia ventricolare di tipo ischemico in realtà Anselevi ci ha dimostrato che sono più valide le ipotesi di alterazione della ripolarizzazione di cui vi ho parlato poco fa quindi allungamento del 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 notch con la possibilità di rientro in fase 2 e questo ve l'ho detto e questi sono i lavori di Pappone Pappone sapete tutti si sta dedicando all'ablazione del del pattern di Brugada i lavori non sono deludenti anzi devo dire io ho assistito al primo congresso internazionale devo dire che i risultati sono entusiasmanti quantomeno per la scomparsa del pattern elettrocardiografico questo è un pattern prima dell'ablazione e questo è il dopo i pazienti prima inducibili risultano non inducibili al follow up in grossa percentuale quello che ci manca in questi lavori e probabilmente serviranno 10 o 20 anni è il dato prognostico cioè questa cosmesi elettrocardiografica servirà tra 10 e 20 anni a ridurre la morte improvvisa stay tuned come si dice lo scopriremo solo vivendo per chi vivrà come vedete gli outcome sono molto molto buoni da segnalare soltanto un leggero bias che nei lavori di Brugada e Pappone i pazienti avevano una minore storia di fibrillazione ventricolare rispetto alle altre pubblicazioni per quanto riguarda l'approccio è un approccio epicardico mirato all'eliminazione di questi potenziali tardivi in epicardio però nonostante l'approccio possa apparire un po' troppo cruento in realtà le complicanze sono molto basse nessuna complicanza acuta soltanto due insuccessi e dei versamenti pericardici autolimitantesi per quanto riguarda queste sono le indicazioni dell'ablazione ovviamente per il Brugada in classe prima nei pazienti con aritmie ripetute ma forse sono in ritardo va bene questi sono i cambiamenti di stile di vita che conoscete tutti e che trovate sulla patient letter del sito altro punto che vi invito a leggere perché è una review che abbiamo scritto l'anno scorso pubblicata su American Journal of Cardiology insieme a Brugada e a Baran Cook sulla gestione intraoperatoria dei pazienti vi dico che il rischio operatorio è virtuale ci sono delle piccole accorgimenti da seguire ma il paziente può operarsi corre quasi nessun rischio e questo è la flow chart del consensus del 2016 che vi invito a leggere che non sto a commentare perché di fatto riassume quello che ho detto grazie per l'attenzione scusate mi sono un po' prolungato grazie grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione